Musica Situato in posizione dominante, il castello di Uviglie si erge maestoso sulle colline della Valle Genza, a Rosignano Monferrato. Musica Uviglie viene edificato a partire dal 1239 come casaforte e termina la sua costruzione nel 1322, in questo periodo, durante questo secolo, passa dall'essere una casaforte a un castello vero e proprio di presidio del territorio. La veste in cui lo troviamo ancora oggi ricorda quella che è la costruzione originaria come fortificazione difensiva. Musica Musica Oggi il castello è una residenza privata, è una residenza privata che però è aperta al pubblico, nel senso che svolge attività sostanzialmente di pernottamento di turisti all'interno di una dependance presente nel parco. Noi apriamo il castello anche alle visite e quindi, diciamo, è una presenza che è sul territorio del Monferrato, in particolar modo della Valle Genza, dove si trova a un suo certo richiamo. Musica Musica Uviglia è caratterizzata non solo dalla presenza, la collina di Uviglia non solo dalla presenza del castello vero e proprio, ma anche dell'azienda agricola. Il territorio dell'azienda agricola di Uviglia, che si estende per 110 ettari, coincide con il territorio dell'antica Contea. In esso viene svolta attività agricola, in particolar modo la coltivazione della vigna, dell'uva. Questa è una coltivazione molto antica per Uviglia perché si tramanda e si prosegue dal 1491 ininterrottamente. Musica 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 Grazie a tutti